La dottoressa Melissa Holden, 38 anni, psicologa infantile. Trovata con un unico proiettile 9 mm confieccato nel cranio. Testimoni? Un secondo soggetto non identificato, probabilmente una donna. Chi è più bella ora? Connie ha crudeltà istintiva. Lei ha bisogno di una pedina da controllare, da manipolare. Altrimenti il suo enorme senso di autostima crollerebbe. FBI Most Wanted. Finale di stagione. Giovedì alle 21.20 in Prima Visione Italia 1.